E' dentro! Ce l'ho! Ce l'ho filmato! Ce l'ho filmato! Ciao a tutti runners, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi mi sentivo particolarmente pigro, quindi decido di vloggare dall'iPhone. Non è assolutamente perché io abbia dimenticato di caricare tutta l'attrezzatura. Quindi vi beccate il vlog dall'iPhone. Ho una civec. E se giro la fotocamera è ancora meglio. What a nice view! Ma dove siamo? Siamo a Marcalo con Casone Parco Ghiotti al TLVM, The Low Meat Village. Ed in effetti c'è un bel po' di roba low. E anche un bel po' di roba village. E non sono i village people. Quindi io adesso appena smetto di piovere vi porto con me a vedere un po' di macchine. Iniziamo ad andare a dar fastidio agli amici delle macchine che stanno mangiando. 25 rostigini! Damn! Oh, gli adesivi delle amici delle macchine! Damn! Questi li mettevo nel cofano. Se non lo metti tu non vale! No, secondo me no perché l'ha messo su Marsiglio. Più probabilmente che ti venga via la mano! Carrozzeria Marsiglio! Bravi ragazzi! Easy! Easy! La pacca? Damn! Adesso è ufficiale! Adesso è ufficiale! No drift! Mamma mia sto fiestino raga mi fa impazzire! Chi mi conosce lo sa che non sono un fan delle fiesta ma fenomenale! Qua c'è la nostra Sky che vi ricordo essere in vendita, trovate su Auto Scout quindi se volete una Sky è la vostra macchina, non avrà questi cerchi come ho già detto. E insomma c'è un po' di robetta, un po' di robetta, un po' di robetta interessante. Oh! Oh! Il teatro! Oh! Il teatro! Mazzamiada! Oh è arrivata la service car! Oh lo ZC! Arriva, parcheggia, non gliene friga niente! Oh no! Ho vinto un gatto! Ma che buono è! Hai vinto un gatto! Non è vero l'abbiamo pagato! Ho fatto il conto di pagare l'Eurosp... Qui ne abbiamo vinto! È proprio bello l'Eurospina! L'Eurospina ragazzi! Mio fratello! Volete venire a vedere l'Eurospina? Guarda! Guarda te! Amaro del Golfo! Amaro del Golfo! Blu scola! Eh non è non è non è! La bocca! No! Questo chiaramente è un ex antenato di Paolo! Oh iniziamo Toh, una testa raga! London dry jeans, sapete perché dry? Perché? Perché a Londra non piove mai! Esatto! Oh! Figa sono... Ma raga dove avete preso l'alta? Se qualcuno scappa... Raga! Mi piace! Questa è la mossa d'esperto! Questa è la mossa d'esperto! Puoi pulirmi ragazzi! Ma tu sei... hai preso le zanzari! Queste non sono zanzari! Eh ma stasera ci saranno anche le zanzari! No, sei macchina! Ma hai preso gli zampironi Giro? No! Raga lo vuoi mangiare? Guarda! Sono arrivati gli aiuti umanitari! S lunga! Se c'è un pennarello lo taggo giù! C'ho la bomboletta dietro io! Io ho la color! Allora... Lo lascio bagnato opposto! La gente non lo calpesta! Allora abbiamo... Questa moto? È di Ricky! Ah! S lunga, focaccine, baby! Porca troia! Tant'ero dovete preso! Conca è in moto! Conca! Allora abbiamo un prosetto prootto! Quanto paga milano i Tramers? Conca questo prootto! Ti faccio vedere uno posto! 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 Oh, baby! Versace! Versace glass! Yo! Aspetta, aspetta! Riprendi il killer! Riprendi il killer! Detrueno? Si! Mi ha schiacciato! Mi ha schiacciato! E continuano nei Tramers! Poi abbiamo preso gli alba i bibanesi! Giro, hai trovato la roba senza glutine? Sì! E' verbo! Minchiafo Cassini! Cassini! Mayan Sandwich! Bianco! Sottolineiamo eh! Bianco! Guarda! Questa è la mossa del pro, ragazzi! Yo! Le kettle! Mamma mia! A Girotto piace spendere il soldo! Il denaro! Era un sconto! Era un sconto! E poi abbiamo preso i chili di nacho! Ma chita! Chili di nacho per la colazione! Per le corse in giornata! Io! Io! L'arnele il blue abbiamo preso! E l'abbiamo finito! 170 euro di pranzo! E' la 66 con lo sconto dei ciliegi! Sconto dei ciliegi! Dimmi che sei un maranzo! Abbiamo anche la birra, prendi la birra Prendi la birra Prendi la birra Questa... Questa fa cameras Vabbè, abbiamo i trimers per Food Italy Oh, momenti di alta qualità Che altro giorno mi è uscito... Pranzo mi era al trim Ah, stai vloggando tu? Sto vloggando? Bravo Paolo che vlogga, mi piace Allora, oggi vi facciamo vedere come la gente che ha la macchina più brutta d'Italia fa un panino Allora, ricordiamo Il galbanino Classiche Classiche Le build già fatte, non sono build ASMR Bello Il frutto dell'acisterioso focone No, ma c'è il salame Vabbè viene con i trimers Ah no Vabbè il salame viene con i trimers Dobbiamo fare la collab con l'eserunga per i salami Adesso, fettina di prosciutto Fettine panate Chiudi così Ok Oiii Oiii Sembra una fessona Mamma mia Tu sei proprio in astinenza eh Ehhh Ehhh Ehhhh Ehhh Ricordiamo... Nel frutto tipo girotto senza glutine Ehhh No Sglutennato Con glutine o senza glutine? Con mollino o senza? Ehhh Perfetto Perfetto Ho anche il generatore Che già Non so come Ma ci possiamo attaccare Ho dimenticato il finire Ma perché non mi mettete Raga di là Raga di là Raga raga Così Mettetevi in linea Capocantiere sta parlando Alla Alla ricerca dello scatto perfetto Abbiamo un generatore solo ed esclusivamente per il mini frigo Meravine Generous Dove vai? Hai perso E' una l'olino 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 E' una swift Nooo Nooo Cos'è che è successo? Cos'è che è successo? Avete perso Hai perso Hai perso a Bill Pong Non c'entro niente E' Girotto che deve perso Ma allora? Non solo E' Girotto che Ehhhh 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 Come vuole passare pezzo di mondo Ma che Scusa Ma cosa ne pensi della Honda Civic dietro di te? Ehhhh Beh devo accedere il 32 Non l'ho capito Accedo la Civic? Si ma non è in Vang Si fa le fiamme Si fa le fiamme Non è in Vang Non è in Vang Non è in Vang Non è in Vang Andiamo a vedere le fiamme Ehhhh Ehh 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 Che ti fa è bella? stiamo un po chillando sei già spento giro una volta te non hai bevuto cazzo ti spegni tu sei il capo non ti puoi spegnere la moscerina devastante cillare con le macchine è una cosa che è tanto che non lo facciamo poi un sacco di assetti d'aria io sono contento se vedo gli assetti d'aria io voglio vedere mattia rosso quando arriva quanti di senti che si tira perchè? perchè lui è l'uomo dei soldi ah è vero eh già mattia rosso sì mi chiama che bello che sei in camera oggi è proprio carino tu no vlog update dal presidente siamo siamo qua mamma mia c'è la storia di non le mamma c'è che si monta la tenda quella della decathlon da due secondi me lo fai rivedere? è quella che la prendi e fai perfetta tenda per paolo room tour quindi tour qu'è cioè se ci vuoi sponsorizzare noi non dobbiamo mai in posti che non siano tende quindi qu'è qua nei dm milano night runners facciamo facciamo una sponsorizzazione più qualità iphone di girotto più qualità siamo arrivati al momento in cui dobbiamo montare la tenda sarà divertente che cosa ha detto sto morendo di moschini no zi un botto sto morendo di moschini Moschitos Di Lecce, minchia un foggiano, un barese e una di Lecce, tutto abbiamo Ma nessuno ti ha interpellato No, oh, sta in piedi Adesso scendri e la tira giù tutta Ma non abbiamo il pavimento raga Le mutande Stavamo a fare un sentito Andiamo in bagno Cazzo vuoi? Passare per niente? Room tour, madonna, questo cavo qua stanotte mi è terra vittime, me lo sento Giro, fammi un tour della stanza Allora, qua c'è il corridoio centrale Ok Come puoi vedere Sì, con la finestra, sulle macchine Con la finestra, sulle macchine perché almeno vediamo se ci sono gli zingri che ci vogliono No, non si dice E comunque giro il fondo è di quell'altra Il fondo è di quell'altra perché quell'altra non ha il fondo Quindi No, no, forse no Sentiamo qua dentro, si va in cucina ragazzi Ma posso fare un commento tecnico? A che cazzo serve la porta? Ah, ah, qua è chiuso Perché questa è un'altra stanza No, chiudi, chiudi, giro Poi si cucinano i moscerini E' proprio antistatico, è anti-moscerini Perché noi Dormire con un tetto vero sopra la testa Non se ne parla Senti ragazzi, è partito il generatore, è morto È morto il generatore ragazzi Il nostro mini frigo C'è salutati È l'ora della pappa È l'ora delle pappe È l'ora della pappa Sì perché dal nulla Sì perché dal nulla Sì perché dal nulla Eravano tutti seduti tranquilli a chillare BABAM È proprio casino Un botte da gente Di labor Fuoco, fiamme Un disastro E niente Si è rovinato il wrap Quindi è un peccato Ma qua fanno... La rustella È questo È questo È questo Va bene Noi adesso facciamo un b-roll della cena Sto scaldando la pallina Allora se Ossiani la manda qua dentro Beviamo noi tutto questo Se non la c'entra Beve lui quello Tutto? Tutti Prendolo dai Mamma mia ma scarso C'è appena la staccata mia faccia No vedi questa Il schermo ovviamente noi possiamo bere Perché tanto stasera troviamo in tenda qua E noi non dobbiamo guidare Quindi Si gioca Dai Il sito sta degenerando nel frattempo Guarda il guidatore responsabile che non beve È dentro Ce l'ho Ce l'ho filmato Ce l'ho filmato È caduto È caduto È caduto Vieni No È caduto Deve rimanere se caduto Mamma no È caduto Deve rimanere se caduto Guarda che caduto No Ricchi Voi si bevi i bichieri all'orlo quindi vale Ma vieni I bichieri all'orlo Non prendi questo I bichieri all'orlo Non prendi questo Bevi 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 Chiacchierone Bevi Mi faccio la doccia Mi faccio la doccia Allora vieni Apri la bocca Apri la bocca Medicina Guarda le gambe Squatta Campari E' domenica Ieri sera ci siamo divertiti In realtà ci siamo svegliati verso le 9 Girotto ovviamente alle 8 Perché è pazzo Fuori di testa Il problema è stato che Forse abbiamo alzato un po' il gomito Io sono stanco morto E non ho vloggato fino ad ora Perché ho il telefono scarico Completamente morto Vorrei tanto andare a casa a dormire E' già arrivato un bel po' di gente Hanno già iniziato a fare bang E sento impianti che fanno casino Quindi io sono già distrutto Sto in macchina Con l'arrietta condizionata A riposarmi E basta Lollino Devo dirti un segreto Che è successo? Ci sono dimenticato di vloggare E adesso? E adesso niente Ricordatevi di Iscrivervi al canale Lasciarci un bel like E soprattutto Attivare la campanella Per rimanere sempre aggiornati Su tutte le nostre pubblicazioni Io vi saluto Ricordati che non conto Quanti cavalli hai Ma Quanto Ivo ci metti Grazie